Dottoressa Francesca Mangiatordi dell'ospedale Maggiore di Cremona. Buonasera dottoressa. Ci siamo collegate con lei una decina di giorni fa. Ci ha raccontato le difficoltà del lavoro in prima linea. Com'è la situazione adesso? Sto notando da qualche giorno una riduzione degli accessi in pronto soccorso. Ed è una situazione che ci fa ben sperare. Soprattutto ci ha dato un po' di respiro. E' motivato ulteriormente a continuare il lavoro che stiamo già facendo. Motualmente le misure restrittive stanno funzionando. E certo. Quindi riduzione degli accessi al pronto soccorso. Questa è una bella notizia. Ma aumentano, abbiamo visto, i casi di contagi tra medici ed infermieri. Accade anche da voi. E secondo lei come è possibile evitarlo? Purtroppo sì. Giornalmente riscontriamo colleghi positivi al tampone. Quindi che vengono messi in quarantena. E in altri casi sia infermieri che medici. Ma anche tecnici di radiologia. Che purtroppo sono infettati e hanno sviluppato la polmonite. Il problema è che noi sanitari in prima linea dovremmo essere quelli maggiormente tutelati. Ci mettiamo mani e corpo per ovviamente svolgere al meglio il nostro lavoro. Siamo dei professionisti e quindi sappiamo come svolgerlo. Però purtroppo l'effetto secondario di questa epidemia è che colpisce anche noi medici e anche noi operatori. In bocca al lupo dottoressa e grazie per il lavoro che state facendo. Noi continuiamo. Il numero di... Il numero di... Il numero di... Grazie a tutti.